Denaro e beni per 7,8 milioni di euro sono stati sequestrati dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, ad una società e al suo rappresentante legale a cui l'ufficio inquirente di Nola, coordinato dal procuratore Marco Del Gaudio, contesta il reato di dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni disposte dal GIP di Nola su richiesta della procura. La società in questione si occupa del commercio all'ingrosso di bevande alcoliche. Secondo gli inquirenti avrebbero messo a segno un ingente frode non pagando l'IVA dagli accertamenti. Delle fiamme gialle è emerso infatti che tra il 2018 e il 2022 la società avrebbe fatto acquisti da fornitori esteri per un imponibile da 36 milioni di euro, ma utilizzando 25 società non operative dette cartiere in modo da eludere il versamento dell'importa sul valore aggiunto. Con questo modus operandi l'azienda quindi poteva vendere i loro prodotti a prezzi estremamente vantaggiosi che le concorrenti in regola non potevano praticare.